La concessionaria L'Auto vi augura buone feste. Buone notizie per gli autotrasportatori della provincia. Nei giorni scorsi è stato rinnovato il contratto nazionale dei lavoratori della logistica, trasporto, merce e spedizioni, scaduto ormai da due anni. Un netto passo avanti per un settore che permette la maggior parte degli scambi commerciali su tutto il territorio nazionale. In Italia più del 95% della merce viene trasportata su gomma, ma in Valtellina ancora di più perché oltre ai quattro treni di acqua minerale della Levissima tutta l'altra merce viaggia su gomma e pertanto per noi è importantissimo questo settore e pertanto bisogna avere un occhio di riguardo. Fra le novità del contratto le norme per favorire l'occupazione giovanile, maggiori tutele nel caso di cambi d'appalto e regole per contrastare la somministrazione trasnazionale, ovvero il distacco abusivo dei lavoratori di società straniere operanti in Italia. Gli aspetti positivi praticamente sono l'aumento contrattuale di 108 euro sul livello medio che andrà poi a regime con tutti gli altri livelli e una tantum di 300 euro per i due anni che abbiamo perso del rinnovo del contratto. Per noi è un'ipotesi d'accordo perché deve essere poi votato dai lavoratori nelle varie assemblee che non abbiamo ancora deciso le date, lo comunicheremo per noi, è importantissimo che anche i lavoratori vengano informati del rinnovo del contratto e di cosa c'è e cosa contiene il contratto.